Ansa, Viareggio, Luca, 6-8, la campionessa olimpica e del mondo, Federica Pellegrini parteciperà alla 41a edizione del meeting di nuoto Musi, Lombardi, Feimiano in programma il 18, e 19 novembre nella piscina di Livorno, dopo le indisponibilità delle piscine di Viareggio, dove è nata la manifestazione, e Massarosa, che ha ospitato la chermesse nelle ultime edizioni. A dare la notizia della partecipazione della campionessa è stato il Giovanni Battista Crisci, patron dell'evento, e che nell'occasione ha ringraziato per la sensibilità il sindaco di Livorno Filippo Nogarini e l'assessore allo sport, Andrea Morini.